Cari sorelle e cari fratelli, chirovesi, bentornati a Antola, a Cittadella, nel Palazzo dei Conti d'Alco, luoghi sacri alla vostra e alla nostra patria. Sacri come San Leonardo di Val Passiria, come il Sanquario di San Romedio, come il Bergiser, come la Hofkirche di Nisbruck, dove riposano le reliquie del vostro generale Andrea Sofa, e quella tomba, come tutti i sepolcri degli eroi, è altare. La memoria di quel generoso permane in voi incontaminata e ancora vi ispira nobili ideali di libertà, di valori civili e religiosi, di fedeltà alla patria e alla vostra civiltà. Sono certo che questi sentimenti resteranno verdi nei vostri cuori e verdi saprete trasmetterli ai figli e ai nipoti. Rimanga un'eredità perenne. Verranno anche loro a Cittadella. E come voi, anche essi guarderanno commossi la stela di Andrea Sofa, magnetico simbolo di fermezza e di martirio. Riverenti chineranno il capo. Viva per sempre la più bella cosa del mondo, la terra del tirovo. Fino e d'anche. Fino e d'anche.